È stata inaugurata venerdì 22 marzo alle ore 11 dall'euro parlamentare Damiano Zofoli l'82esima edizione della mostra Agricoltura Faenza, MAF e la 43esima edizione della mostra Meccanizzazione di Vitivinicoltura, Momevi. Due eventi in un programma dal 22 al 24 marzo in Fiera a Faenza, 28 mila metri quadrati di esposizione con tanti appuntamenti e il mondo dell'agricoltura Emiliano Romagnola radunati in un unico grande evento.